... Me l'ho fermato a comprare il gelato, l'ho visto il rifornimento, è ripartito, non ho resistito, son salito anch'io e l'ho ricorso, perché qualcuno glielo dovrà anche dire, è il periodo dei travestimenti, è il periodo di chi va a cercarle signorine e poi si ritrova alla sorpresina, ciao ma non ti chiami Inga? No mi chiamo Rachele e sono del Rio de Janeiro, e poi magari entri in un concessionario teutonico BMW, voglio fare il salto, basta prodotti italici, voglio il teutonico, la voglio nera, la voglio aggressiva, voglio anche un Manestrian, e allora si, vi faccio il BMW Serie 1 teutonica, ma te che, ma te che, questo è come quelli che vanno sulla salaria, caricano la prima che sembra una donna, e c'è la sorpresa, è il prodotto italico, te lo deve dire qualcuno, è un Arfio, è un Arfio travestito da BMW, Arfio 147 Travel Shek, travestito da BMW, e secondo te sto male, e qualcuno glielo doveva pure dire, e allora si, te piace l'italico, ma te piace fa il teutonico, sappi che sotto hai un italico, è un Arfio, e c'ha la maschera, rispetto per il prodotto italico, niente maschere, via la maschera, surro la tua personalità, te sei fatto un Arfio, secondo te sto male?